Due amici si incontrano, allora uno gli fa a quell'altro, dice io comunque ho seguito il tuo consiglio, va bene, sono andato dallo psicologo, bravo, hai fatto bene, allora che ti ha detto lo psicologo? Mi ha detto che per capire i miei problemi, perché ognuno di noi ha dei problemi, però noi non si capiscano da soli, bisogna che qualcuno ce lo dica, siccome a me non me lo dice nessuno, mi ha detto che mi devo scrivere una lettera con tutti i problemi che io penso di avere, capito? E poi dopo io, leggendo la lettera, riesco a capire i miei problemi e li dovrei guarire, dice, ah bene, e che c'è scritto in questa lettera? Non mi è mica arrivata.